Oh, ma quanto sei comodo! Così! Sì, molto divertente e anche molto sofisticato. Oh, ma quanto sei comodo! Così! Come ancora? Ma insomma, questo però non succede mai al cinema. Oh, ma quanto sei comodo! Ah, un altro scherzetto, Bricconcelli. Volevate beffarmi, eh? No, Briccon... Potipoti! Sì, 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 sì. Stop! Ops! Scusate tanto, ragazze. C'è mancato un pelo. Qualcosa non andava. Sarà meglio mettersi gli occhiali protettivi. Cara, la bancarella dello zucchero filato ha finito lo zucchero filato. Ripeto, non c'è più zucchero filato. Allora, qui c'è bisogno di... Super Wes! Non importa, Wes. Ricominceremo da qui. Sì! E vai! Azione! Fermatevi, vi prego! Stop! No, no, no. Dovete attaccare il barone. Non leccarlo e fargli le fusa. Non è mica un film per bambini, questo. No, no, no. No, no. Non è mica un film per il passaggio. Grazie a tutti.